Noi dobbiamo confidare anche che nel giro di un po' di settimane eh si consolideranno anche le terapie e verranno certificate dalle autorità competenti le terapie monoclonali, gli anticorpi monoclonali che saranno anch'essi molto efficaci e se mi permettete insomma siccome l'Italia dal punto di vista in questa della ricerca farmaceutica non è seconda a nessuno insomma e comunque esprime assolutamente un livello di eccellenza eh che ci viene anche invidiato a Siena con Toscana Life Sciences del professor Rino Rappuoli ecco voglio anche citare eh una nostra eccellenza sono in fase molto avanzata mi risulta per quanto riguarda queste questi anticorpi monoclonali che agiscono come sapete diversamente ma in qualche modo neutralizzano il virus l'efficacia del virus quindi con logica completamente diversa.